Il BTC Navarese ha messo a disposizione il proprio pozzo per superare il problema della siccità in città. È un'idea che si potrebbe estendere anche a livello regionale? Secondo lei potreste pensare a un'ordinanza di questo genere? Non credo che ci sia questa necessità se non in situazioni particolari. Quello che per ora emerge è una problematica legata all'irrigazione, non al problema civile, non per l'acqua ad usi domestici. Se esistono delle situazioni che comportano la necessità, io credo che tutti i privati siano ben disponibili a mettere a disposizione eventuali pozzi che loro hanno.